buongiorno a tutti ci lasciamo questo anno 2021 alle spalle è stato un anno difficile con tutte le sue restrizioni difficoltà di movimenti e oggi ci prospetta davanti a noi un anno 2022 molto diverso chiaramente ci sarà una impenata ancora dovuto alla pandemia in questi primi mesi dell'anno ma dovrebbe essere l'ultima grande ondata chiaramente ci sarà sempre il covid ma non avremo dei tassi così importanti nel futuro bisogna sapersi affidare alle leggi della natura che fanno sì che lentamente mutazione dopo mutazione questo virus va a diventare come tanti altri virus molto contagioso ma poco letale e quindi ci auguriamo proprio per questo nuovo anno molta unione perché nei secoli quello che ha creato le diverse pandemie dalle peste dalle epidemie romane dall'influenza spagnola sono stato le divisioni le guerre interiori che vive l'umanità e quindi la miglior difesa contro il covid è il fatto di essere uniti uniti si può tanto e quindi mi auguro di avere un anno 2022 sotto il segno dell'unità e della fidarsi a un piano divino che vuole che le cose portino gioia che portino di nuovo crescita grazie a tutti e buon 2022